U.K., give up what you say, they was trying to find a new way, if call the driver, run outside and get inside the new shape, taking the pin up, and popped up, popped up, but I'm... Palacio, pallone profondo, pericoloso, palo e gol! Palacio, pallone profondo, pericoloso, palo e gol! Possono trovare il gol del pari, attenzione! Perfetta! Occhio al contropiede! C'è il tiro di Ronaldo, cambia dunque il risultato col gol! Quello che hai detto! Spazio lungo l'out, cerca in mezzo Cristiano Ronaldo, e c'è il gol! E che gol! Questo è un colpo di genio, una giocata di classe immensa! Avanza, si libera bene qui! Rete! Splendida Rete! Sbagliato, ha sfruttato! Palla buona per CR7! Non trattiene, attenzione! E il pallone finisce in Rete! Si è coordinato! È accaduto! A spazio lungo l'out, cerca in mezzo Cristiano Ronaldo! C'è il tiro di Ronaldo! E' la mia sei! E' la mia sei! E' la mia sei! E' un chien! Grazie a tutti.